cocaina una delle sostanze d'abuso più utilizzate una delle più facili da reperire una che può essere consumata in tantissimi modi differenti negli ultimi anni ho trattato problematiche di cocaina all'interno del mio studio con tantissimi pazienti e ci sono degli aspetti trasversali che uniscono questo consumo ovviamente il fatto di spesso non essere trasparenti di non raccontare e di non raccontarsi come si è veramente oppure la difficoltà nel cominciare un percorso di terapia che porta magari spesso a vedere a entrare diciamo nello studio di psicoterapia o all'interno di una clinica per una due volte poi scappare per cercare invece di continuare a fare uso perché il craving e quindi il desiderio di sostanza è troppo forte altre caratteristiche significative sono il fatto di non riuscire anche a fare sì che la propria vita possa rimanere effettivamente stabile anche se il problema è legato alla misura del tempo nel senso che per molti anni la cocaina comunque riesce a convivere con la vita delle persone finché a un certo punto poi invece comincia a diventare stretta le persone stanno male stanno male in famiglia non riescono a lavorare come vorrebbero veramente e di conseguenza quelli sono i primi campanelli di allarme che portano poi la persona ad incominciare un percorso all'interno del mio blog ci sono molti articoli dedicati a questo tema ne uscito anche uno e ne uscirà questa settimana uno dedicato proprio al tema della cocaina nello specifico dell'astinenza e rimani collegato perché parleremo ancora di questo tema parleremo ancora di dipendenza e se senti di avere una difficoltà puoi anche contattarmi al 340 41 90 915 per iniziare il tuo percorso di psicoterapia ma non solo legato al mondo del superamento di una dipendenza collaboro da molti anni con parco dei tigli all'interno del mio studio qui psico c'è anche un ulteriore servizio dedicato nello specifico alle famiglie quindi è arrivato il momento nel momento in cui senti quei campanelli di cui parlavo prima è il momento giusto per cominciare un percorso intanto grazie buona giornata a presto